La 29esima edizione della Biennale di Palazzo Corsini sarà una biennale ricca di successi per i mercanti. Noi lavoriamo per il bene della nostra categoria, porteremo quest'anno a Firenze tanti colleghi internazionali e il mio compito, spero, sarà quello di portare avanti il prestigioso lavoro svolto fino a questo momento da Giovanni Pratesi. Molte appunto le opere che verranno esposte, Tiepolo, Velasquez, bellissime opere appunto legate all'ebanisteria. Ricordiamo che la Biennale di Palazzo Corsini è una biennale che vede l'arte a 360 gradi. Abbiamo quest'anno aperto le opere anche ad opere dell'arte moderna, il limite è il 1979, quindi vedremo in mostra le opere di Fontana, di Castellani, di De Chirico. Abbiamo dei rientri molto importanti, già Lenzo Sperone, abbiamo la Galleria Tega, Farsetti, quindi sarà una mostra che vorrà vedere come l'arte italiana è stata maestra e lo è tutt'oggi appunto nel campo nazionale ed internazionale.